È stata un'esperienza molto utile, a me piace molto interagire con i ragazzi, poi il livello di attenzione era sicuramente molto alto, che stiamo parlando di ragazzi che hanno già una loro formazione, che chiaramente vogliono capire meglio quale sarà poi il loro destino, il loro futuro, speriamo, nel mondo del calcio. Abbiamo parlato della mia esperienza professionale, della comunicazione anche nel mondo del calcio attuale, nel mondo social, avendo comunque tanti follower, avendo tanta esperienza, sia prima a livello locale che a livello nazionale, ho cercato di raccontare un po' quello che era il mio percorso. La conoscenza delle lingue credo che sia fondamentale, è proprio il primo consiglio che mi sento di dare ai giovani del futuro. Io conosco soltanto l'inglese, bene, ma mi sento certe volte in difficoltà perché vorrei parlare meglio il tedesco, vorrei parlare il francese, vorrei parlare meglio il portoghese, e quindi veramente consiglio di approfondire il più possibile la conoscenza delle lingue perché credo che nel futuro sarà un aspetto fondamentale per chi vuole lavorare nel mondo del calcio, e chiaramente non solo. Grazie. 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 Grazie.